È importante ricordare quello che è stato il coraggio, il valore, lo spirito con i quali i soldati indipendentemente dall'uniforme che indossassero e indifferentemente dalla bandiera che servissero hanno veramente fatto grandissime cose e gli alpini di oggi come diceva Reissi il filo che ci lega è sempre lo stesso e quei valori dei nostri vecchi sono i valori dei nostri soldati oggi. Presidente dunque si ritorna in Adamello ancora una volta per ricordare, per commemorare quest'anno è un anno particolare, in entrambi questi conflitti gli alpini sono stati il loro malgrado protagonisti. Da quando sono nati i protagonisti? Dal 1872, lo sono stati sicuramente nelle due guerre ma lo sono anche, voglio ricordarlo, anche oggi, anche in questo momento che è di pace però è anche di difficoltà e gli alpini ci sono. Noi siamo qui certamente per ricordare perché la nostra associazione quando è nata nel 1919 ha avuto come primo elemento e come elemento fondante quello di non dimenticare ma come secondo elemento quello di aiutare chi ne aveva bisogno. Correva l'anno 1963 quando veniva celebrato il primo pellegrinaggio in Adamello, voluto proprio dagli Adamellini, ricordiamo la figura di Sperandio Zani ma con lui molti altri. Hanno avuto questa grande intuizione, hanno capito che il ricordare, ricordare soprattutto su queste montagne, soprattutto sull'Adamello quello che era avvenuto durante la prima guerra mondiale è stato sicuramente un segno per testimoniare Allora come oggi a chi vuole capire che questi segni sono segni che danno e dovrebbero dare forza a tutti, dovrebbero far capire a tutti che il sacrificio è qualcosa che nobilita l'uomo, è qualcosa che fa dell'uomo una persona capace di dare, di dare io oserei dire senza chiedere. Come ha fatto Nando Sala a cui questo pellegrinaggio è stato dedicato. Il papà ha sempre seguito i pellegrinaggi, è stata veramente la sua grande passione, lo faceva davvero in silenzio e credo che se sapesse che oggi gli dedicano un pellegrinaggio probabilmente quasi quasi non si arrabbierebbe però sicuramente non sarebbe qui presente. Ecco l'aneddoto che ogni tanto racconto è che abbiamo raccolto un po' le memorie del papà in un libricino e tra queste ho voluto lasciare uno spazio anche al pellegrinaggio in Adamello. Quando è stato il momento di cercare una fotografia che ritraesse il papà al pellegrinaggio non sono riuscito a trovarla. Grazie. 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 Grazie.